gloria al tuo santissimo nome padre fonte di ogni speranza e di ogni bene alleluia i nostri cuori a te si rivolgono a te chiedono soccorso perché tu sei il soccorso dei tuoi figli tu sei il soccorso delle anime nostre tu in gesù cristo alleluia c'è il redento c'è raggiunto c'è amato alleluia c'è conquistato al tuo cuore grazie per il tuo spirito santo fonte di sapienza gioia fortezza potenza autorità nel nome di gesù cristo grazie dio nostro padre celeste dispensatore di ogni bene padre degli astri luminosi dal quale discende ogni bene a te padre celeste noi ci rivolgiamo signore noi abbiamo bisogno di te e lo riconosciamo apertamente così come riconosciamo apertamente che tu ci puoi dare quello di cui noi abbiamo bisogno dio di pace dio di grande consolazione e conforto a te signore noi ricorriamo fiduciosi perché tu signore sei il nostro creatore noi siamo opera delle tue mani tu ci hai amati sino al punto di dare gesù cristo tuo figlio per la nostra salvezza quindi siamo certi siamo sicuri siamo confortati siamo rasserenati nel sapere delle tue intenzioni verso di noi del tuo bene verso di noi di come noi siamo progetto delle tue mani progetto del tuo cuore signore tu sei la nostra assistenza tu sei il nostro ricorso tu sei la nostra risorsa padre e a ogni cosa noi la chiediamo a te signore per la tua benevolenza e misericordia nel nome di gesù cristo tuo figlio nel quale ci concedi ogni bene che secondo la tua volontà gloria al tuo santo nome ti ringraziamo anticipatamente perché le nostre richieste salgono a te al trono della grazia e tu in maniera perfetta in maniera opportuna ci verrai incontro ci risponderai e ci darai ciò di cui veramente abbiamo bisogno gloria al tuo nome in cristo gesù che con te è benedetto in eterno amen grazie a tutti